Sindaco, volge al termine il mese di agosto, alle spalle i giorni più caldi, anche da un punto di vista turistico. Che bilancio possiamo già trarre per la sua città? Come è andata questa stagione estiva turistica? Il bilancio è assolutamente positivo. Se volessimo parlare di un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, direi che sarà assolutamente pieno. Gli alberghi sono stati per tutta la stagione full, da un punto di vista delle presenze. Il territorio ha vissuto momenti importanti, anche grazie alle varie manifestazioni che abbiamo tenuto sul territorio. C'è grande soddisfazione, anche da un punto di vista commerciale, che in questo momento non guasta, perché la crisi si fa sentire. Quindi una stagione importante per Montesilvano, da un punto di vista turistico, significa anche vita per il commercio. Tanta soddisfazione, la strada tracciata da qualche anno è quella giusta e continueremo così al fine di regalare al territorio sempre meglio. Diciamo che anche il miglioramento della qualità delle acque, l'isola pedonale e la sera sono fattori probabilmente vincenti? Sicuramente l'isola pedonale negli anni ha garantito una presenza massiccia sul territorio, ma devo dire che in questi tre anni abbiamo fatto sì che questa passeggiata, questa isola si arricchisse sempre di più e tutto questo ha portato a un boom per quello che riguarda le presenze serali e non solo sul nostro territorio. Per quello che riguarda invece la qualità delle acque, assolutamente sì, le acque di Montesilvano da anni sono eccellenti e ci auguriamo il prossimo anno peraltro di raggiungere l'obiettivo della bandiera blu, ci stiamo lavorando e sono certo che potremo raggiungere anche questo traguardo.